È stata una partita difficilissima, dobbiamo essere onesti che comunque il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto perché ora hanno giocato una signora partita, ma è una squadra fortissima, la Fragolesi ne abbiamo avuto le defezioni dell'ultimo minuto tra cui anche Filosa, che ha avuto un infortunio casalingo e quindi avevamo delle defezioni importanti anche in difesa, però devo veramente enfatizzare la forza del gruppo, oggi il gruppo ha fatto la differenza è un gruppo forte, è un gruppo che sapevo che poteva dare tantissimo e oggi abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra in questo campionato che continua ad essere difficilissimo, però la forza del gruppo oggi è stata devastante io ho visto i ragazzi che dal primo al 97, al 100esimo minuto hanno corso, non si sono tirati indietro per nessun motivo hanno combattuto alla grande, quindi veramente è la vittoria del gruppo ma ripeto devo fare i complimenti alla Fragolesi perché è una signora squadra e onestamente oggi forse meritavo qualcosa in più però ogni tanto la fortuna gira anche dalla parte nostra e probabilmente è arrivato anche il momento per riferire a cogliere qualcosa che abbiamo perso durante il giro di andata